Il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila, Alessandro Grimaldi, è riconfermato segretario regionale della NAO Assomed, il sindacato dei dirigenti medici più rappresentativo in Italia in Abruzzo. Il dottor Grimaldi sarà il vertice del sindacato per altri quattro anni, con per la prima volta una vice segretaria donna, Gabriella Marini. I problemi da affrontare saranno tanti. Il più urgente è quello delle dimissioni o dei pensionamenti legati alla disaffezione. Spesso i medici sono costretti a turni massacranti con scarse prospettive di carriera, retribuzioni non elevate e un'organizzazione del lavoro difficile per la carenza di personale. La pandemia ha aggravato però le problematiche del sistema sanitario. Abbiamo molti arretrati, soprattutto per quel che riguarda gli interventi chirurgici e quindi ci sarà diciamo molto molto da lavorare. È chiaro che c'è molto da lavorare anche nel campo dei diritti e soprattutto delle assunzioni. Noi puntiamo molto e speriamo che il governo regionale si faccia carico di assunzioni e stabilizzazioni perché c'è una grossa carenza di personale in questo momento e quindi dobbiamo colmare i gap che abbiamo ma soprattutto dobbiamo investire sui giovani. Il dottor Grimaldi è stato in prima linea durante l'emergenza covid e ancora lo è. La situazione all'Aquila è in netto miglioramento ma bisognerà vedere cosa accadrà in autunno. Ma sull'Aquila è in miglioramento come storicamente ormai avviene da due anni a maggio però sappiamo pure che poi andando verso l'autunno potrebbe esserci una recrudescenza. Qual è la nuovità di quest'anno? No, è che gran parte della popolazione è vaccinata e sappiamo che il vaccino non è una barriera invalicabile per il covid ma protegge molto dalla forma grave e il motivo per cui dobbiamo continuare a vaccinarci soprattutto i pazienti fragili. Poi vedremo cosa succederà in autunno perché il virus è diventato un po' meno aggressivo ma è diventato anche molto più contagioso. Quindi per la legge dei grandi numeri speriamo di no ma potrebbe esserci un aumento dei casi e dei contagi che potrebbe in qualche modo configurare anche una crisi a livello ospedaliero.